Ma tu lo vuoi? Non pensi che sia sbagliato? Io lo voglio. Non mi importa se è sbagliato. Tu lo conosci Alberto? Ma chi, Marino? Sono sfigato. Sul museo mi hai fatto una foto. Perché? Perché è la cosa più bella di quel museo. Guarda un po' che è tornato dall'agilità. Peccato che oggi non è il tuo compleanno perché ti avrei fatto veramente un bel regalo. Secondo me questa cosa del video è un po' inquietante. Cioè magari ci sono pure le seghe, capito? Diciamo che hai regalato emozioni, va bene? Amanda, cose così non si cancellano più. Ti marchiano a vita. Ma tu perché gliel'hai lasciato fare? D'ora a me che sarà il nostro segreto. So guide me. Dai, damelo. aumentata di gira. Grazie a tutti.